benvenuti su espero channel oggi vediamo un modo diverso di fare tracking e di adattare un elemento a un altro elemento quindi noi abbiamo questo filmato nel nostro cagnolino a cui voglio mettere questo vermetto sul naso quindi cosa andiamo a fare il nostro obiettivo è quello di tracciare il movimento del naso e riapplicare questo movimento e in parte la deformazione al vermetto sperimentando un pochettino con la funzione di morphing ho visto che si può utilizzare questa funzione per ottenere questo tipo di risultato in maniera abbastanza semplice e rapida partiamo dal prendere il nostro vermetto lo precomponiamo e andiamo a ritagliare il nostro vermetto ora dato che non voglio perdere tempo nel ritaglio del verme utilizzerò una tecnica un po diversa al solito andrò a prendere il pennello rotoscopio doppio clic seleziono il mio vermetto vedo cosa mi sta andando a riconoscere il pennello rotoscopio utilizzo la funzione miglioramento bordi in modo da poter ottimizzare quella che la parte di miglioramento dei bordi per fargli fare una mascheratura fatta bene al mio elemento notare come vado a prendere i vari peli di questo vermetto per avere uno scontorno fatto bene quindi mi preoccupo di utilizzare questi elementi per ottimizzare quella che la maschera che mi va a realizzare after effects anche perché spesso le persone pensano all'utilizzo di queste funzionalità solo per i video ma fortunatamente funziona molto bene anche per un'immagine statica quindi andiamo a creare questa mascheratura ogni tanto mi fermo per dare un'ulteriore pennellata continuiamo sul contorno in questo modo sto andando a farmi creare direttamente dalle funzioni di after effects ecco ci siamo quasi quella che è la maschera per il nostro vermetto in una situazione un pochettino più semplice magari sarei passato per photoshop ma avendo la possibilità di utilizzare queste funzionalità già direttamente dentro after perché uscire ok diciamo che la mascheratura potrebbe essere abbastanza buona controlliamo direi di sì quindi posso da questo elemento andare a salvarmi salva fotogramma con nome vado a salvarmi nella cartella dei contributi il vermetto in questo modo lui mi ha salvato un file di photoshop quindi posso andare a reimportare dei contributi il mio vermetto mi legge la trasparenza quindi adesso ho il mio elemento già scontornato senza bisogno di avere problemi di scontorni o altro fatti in differenti modi quindi come potete vedere ha fatto un buon scontorno ha scontornato i peli del vermetto per poterlo applicare sul cane in maniera semplice e rapida ok adesso la prima operazione devo portare il vermetto in posizione dove mi interessa in questo caso lo vado a rovesciare per allineare un pochettino alcuni elementi me lo vado a ruotare per poterlo poi riposizionare come viene più comodo all'interno della mia composizione me lo vado a scalare quindi vado a cambiare la scala del mio oggetto in modo che sarà adatto per poterlo poi riposizionare direttamente sulla mia parte interessata quindi a questo punto devo decidere come fare a fare il tracking ora l'operazione a cui sto pensando è la seguente creerò un tracking di una maschera faccio una cosa anche semplice potrebbe essere un ellisse direttamente attorno al naso del cagnolino quindi questo mi permette di essere diciamo in una posizione corretta la metto già in modalità nessuno perché è quello che mi interessa e vado a fare il tracking di questa maschera quindi vado a mettere posizione scala rotazione nel tracking della maschera per chi non sapesse come fare il tracking della maschera sotto animazione c'è proprio la funzione traccia maschera lancio il tracking che andrà a seguire con la maschera la posizione del naso quindi una volta che lui ha finito di fare tutto il tracking e quindi sta creando una serie di keyframe per la forma della maschera tornerò alla posizione originale però prima di fare quello andrò a copiare incollare la maschera da il livello del nostro cagnolino a il livello del vermetto in modo che così lui avrà una maschera come sistema di deformazione quindi vado a tagliare vado a incollare quindi viene incollata la maschera sul vermetto in questo caso notate avendo il vermetto una dimensione diversa la maschera viene incollata di una scala diversa questo non va bene quindi dobbiamo ricomporre spostando tutti gli attributi nella nuova composizione così che la composizione nuova contenente il vermetto ha la stessa dimensione della composizione principale quindi adesso incollando la maschera prende esattamente la stessa forma che aveva prima a questo punto per ottenere il risultato che ci interessa dobbiamo andare sulla maschera 1 dobbiamo andare a duplicare questa maschera cambiamo il colore andiamo sulla maschera 1 e elimino i keyframe perché così la maschera 1 che è la partenza è il punto di partenza del nostro vermetto la maschera 2 che viene animata andrà a muovere il vermetto quindi per concludere l'effetto vado sul livello aggiungo l'effetto distorsione nuova forma ovvero per chi usa la versione inglese morphing maschera di origine 1 maschera di destinazione 2 100% a questo punto si lancio l'anteprima vedrete come il vermetto rimane attaccato al naso del nostro cagnolino nel momento in cui lui muove il naso il vermetto si muove di conseguenza viene deformato perché viene deformato con la maschera se io utilizzo un sistema di deformazione quindi che la maschera legge la prospettiva e tutto il resto l'effetto sarà ancora più realistico ovviamente in questo caso dovrei fare qualche regolazione di correzione colore perché comunque la luce tutto non sono coerenti con quello che è l'immagine che ci interessa quindi devo andare a lavorare un pochettino su quelli che sono i contrasti su quello che sono gli effetti su questo vermetto però il movimento come potete vedere è perfettamente legato al nostro oggetto grazie al fatto che noi abbiamo fatto un sistema di pre composizione io posso andare a aprire anche la composizione separata del nostro vermetto andare sulla composizione del vermetto andare ad adattare quello che sarà la scala per poter riposizionare il vermetto nella posizione corretta potrò andare a cambiare un pochettino la rotazione per far sì che il nostro elemento sia più connesso e più preciso rispetto al naso del nostro cagnolino ovviamente il nostro vermetto è ancora un po troppo a fuoco rispetto al naso che fuori fuoco quindi dovremo aggiungere un effetto di sfocatura usiamo quello di sfocatura lente così è più credibile forse un pochettino troppo ok proviamo con tre perfetto a quel punto già è meglio come vedete quando si compone quando si aggiungono gli elementi non si finisce mai di lavorare e comporre il tutto adesso potremmo anche aggiungere un pochettino di sfocatura di movimento per cambiare l'effetto però diciamo che il lavoro potrebbe essere anche semi infinito perché noi abbiamo la possibilità di migliorare ottimizzare il tutto per quanto vogliamo questo è uno dei mille trucchi che potete imparare durante un corso espero venite a trovarci iscrivetevi